Azioni Kodak in caluta libera, il marchio che ha fatto la storia della fotografia sarebbe sull'orlo del fallimento e pronto a portare i libri in tribunale. Le voci, circolate già venerdì, avevano fatto perdere al titolo il 65% delle proprie valore alla borsa di New York. Oggi la discesa prosegue, il gruppo a fine 2011 potrebbe annunciare perdite fino a 400 milioni di dollari.